Un saluto di augurio di buon Natale a tutti i sanseveresi, a quelli residenti, a quelli che sono presenti nella nostra città in questi giorni di festa ma il nostro pensiero in questo momento va soprattutto a coloro i quali per ragioni le più disparate non sono riusciti a fare ritorno in città e quindi trascorreranno il Natale lontano dalla città Natia. A loro l'abbraccio, l'augurio sincero, caloroso dell'intera comunità sanseverese, dei cittadini di Sansevero, del sindaco e dell'amministrazione comunale che possano trascorrere delle giornate d'allegria seppur lontane dalla nostra amata Sansevero.